Ciao a tutti e bentornati sul mio canale oggi volevo parlarvi della colazione infatti su questo pasto ci sono tantissimi miti, tantissime leggende da sfatare avrete sentito dire tutti, almeno una volta, che a colazione posso mangiare tutto quello che voglio perché tanto ho un'intera giornata per andare a smaltire queste calorie e quindi spesso diventa il pasto più abbondante della nostra giornata in realtà però questa è una leggenda metropolitana, non è vero se io vado a mangiare più calorie di quelle che utilizzo il mio corpo ovviamente tenderà ad ingrassare se invece mangio meno di quello che poi brucio nella giornata tenderò a dimagrire se invece le entrate e le uscite del mio dispendio energetico sono simili il mio peso rimarrà normale, non varierà nel tempo e questo avviene indipendentemente dal fatto che le calorie io le abbia assunte a colazione o a cena non cambia assolutamente nulla, quindi tendo a ingrassare se mangio troppo e non importa se l'ho fatto a colazione o in un'altra fase della giornata infatti, oltretutto, non è vero che durante il giorno brucio molto di più rispetto alla notte perché di notte, anche se dormiamo, tutte le nostre funzioni vitali vengono comunque mantenute invariate e il mio dispendio calorico più o meno è molto simile soprattutto se poi durante la giornata ho un lavoro prevalentemente seduto quindi gran parte della giornata lo passo dietro a una scrivania anche se magari un po' mi muovo, cammino o una volta ogni tanto faccio un po' di palestra comunque non ho un dispendio energetico che è il doppio o il triplo rispetto a quello che ho di notte quindi questo non cambia assolutamente nulla altro errore abbastanza comune è quello di non fare colazione tantissime persone mi raccontano che non fanno colazione un conto e se faccio questa scelta perché ho una filosofia, una dieta particolare da seguire sto pensando al digiuno intermittente per cui decido consapevolmente di saltare la colazione perché poi ho una serie di pasti programmati in un'altra fase della giornata allora in questo caso c'è una programmazione e può avere un senso ma tante persone non fanno colazione perché si alzano di fretta corrono subito al lavoro, non hanno tempo, non hanno voglia, si alzano senza fame e questi sono dei piccoli errori perché? perché poi diventa molto più complesso andare a fare dei pasti regolari e ben forniti dopo spesso se io non faccio colazione poi mi viene fame nella mattinata spizzico, mangio un pezzo al bar, mangio qualche biscottino, qualche crackeradibo a pranzo che ho una gran fame e mangio di più di quello che dovrei fare e tutte queste abitudini mi rendono molto più complesso il riuscire a seguire una dieta quindi abbiamo capito che è importante fare colazione abbiamo capito che la colazione però non può essere il pasto più abbondante della mia giornata quindi cosa devo mangiare a colazione per poter dimagrire? in realtà anche qui ovviamente dipende, ogni persona può avere la sua dieta ma certamente possiamo dire che molto spesso sbagliamo a fare colazione quando le persone vengono da me a fare la dieta la maggioranza delle persone mi raccontano che a colazione o la saltano o mangiano tantissimo o il 90% delle persone mangiano biscotti, croissant, merendine generalmente sono questi gli alimenti che andiamo a introdurre a colazione e diciamo che non sono i più sani in assoluto perché tutti questi alimenti così zuccherini mi alzano tantissimo l'insulina e alzandomi l'insulina aumenta anche l'accumulo di grasso viscerale mi aumenta il deposito viscerale e quindi ovviamente dimagrire diventa un po' più complesso dovremo cercare degli alimenti che mi alzano un pochettino meno l'insulina mi creano meno picchi di glicemia in questo modo mi riducono l'accumulo di grasso viscerale e mi facilitano il dimagrimento quindi un'ottima soluzione è quella di sostituire la mia colazione con le merendine a una colazione con sostanze più nutrienti, più completa con meno zuccheri, ad esempio la colazione salata è molto utile una colazione salata fatta di pane preferibilmente integrale o pane di segale con le uova ad esempio quindi abbiamo aumentato i nutrienti non abbiamo solo zuccheri ma abbiamo anche grassi e proteine il senso di sazietà rimarrà per un tempo più lungo non ho tutti questi picchi di glicemia e quindi il mio dimagrimento è facilitato ci sono tante persone però che appena sveglia e non riescono a fare la colazione salata e quindi possiamo optare per ad esempio frutta fresca e frutta secca anche qui introduciamo un po' di zuccheri ma introduciamo anche fibre, anche proteine, anche grassi quindi andiamo a ridimensionare questi picchi glicemici oppure anche lo yogurt magro con i fiocchi d'avena anche questo è sicuramente una colazione più ricca anche perché a parità di grammatura i biscotti non mi saziano tantissimo perché mi danno tanti zuccheri che uso subito in più una porzione, poi ovviamente dipende da persona a persona ma una porzione mediamente è di 3-4 biscotti quindi raramente riusciamo a sentirci sazi e soddisfatti con 3 biscotti cioè se dovessimo fare una colazione solo con quello spesso molte persone tendono a mangiarne una decina invece con i fiocchi d'avena la grammatura, pur essendo sempre intorno ai 30 grammi è molto molto più abbondante quindi mi sento sazia, mi sento piena in più avendo introdotto una colazione molto più nutriente riesco a avere meno picchi e una situazione molto più completa adesso ovviamente le grammature erano ipotetiche perché poi ogni persona ha la propria dieta personalizzata però era per darvi un'idea quindi cercate di aumentare i nutrienti in ogni pasto anche nella colazione fate una bella colazione che vi sazi ma che non sia il pasto più abbondante della vostra giornata e in questo modo riusciremo ad aiutare ad accumulare meno grasso viscerale e ad immigrire in ogni caso fare una buona colazione è una bella abitudine non solo per chi deve dimagrire ma anche per chi vuole semplicemente stare in forma comunque evitare questi picchi di insulina è utile in generale per la salute di tutti io spero di avervi dato qualche dritta perché se il buongiorno si vede dal mattino è importante iniziare anche con una buona colazione e quindi vi ringrazio se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e alla prossima! grazie a tutti! grazie a tutti!